Oggi abbiamo approvato una nuova delibera che darà la possibilità di accogliere in emergenza freddo altre 45 persone. È una delibera importante perché ampliamo i servizi delle nostre strutture. Sia nel dormitorio pubblico attrezziamo il teatro per 25 posti letto dove daremo oltretutto anche colazione e cena alle persone che verranno accolte e sia altri 20 posti letto in una tenda riscaldata al binario della solidarietà. Questo si aggiunge a tutto quello che già abbiamo fatto per l'emergenza freddo. 15 posti letto nel nostro istituto Danucci e altri 30 posti letto di emergenza e extra emergenza al dormitorio pubblico. In tutto 90 posti letto. Questa nuova soluzione ha dato la possibilità di interagire con le persone senza dimora, cioè entrano in contatto con le unità di strada, entrano in contatto con i servizi sociali e nell'essere accolti diamo anche loro la possibilità di farsi conoscere, di capire quali sono i problemi, quali sono le necessità. Molti di questi rimangono poi in maniera stabile nei nostri dormitori. Quindi questo ha garantito non solo un'accoglienza emergenziale rispetto al freddo, ma ha fatto sì di instaurare nuovi rapporti di fiducia e di entrare nella vita di queste persone, di aiutarli nella maniera più concreta.